Io ho scelto questo progetto perché si avvicinava molto ai miei studi, era un periodo in cui non stavo lavorando e mi ha interessato perché comunque entrare in comune era qualcosa di interessante, anche perché è abbastanza un ente molto complesso e avrei potuto imparare molto. In questo momento sto svolgendo varie attività di comunicazione come estrevolontennaggio nei negozi o anche progettazione di eventi, più che altro sempre nell'ambito della promozione degli eventi, aiuto a gestire il sito internet, a fare la newsletter e alla rassegna stampa. Penso che il servizio civile mi possa lasciare molto a livello professionale, visto che comunque è un progetto che interessa i miei studi, interessa quello che vorrei fare nel futuro e anche queste giornate di formazione penso che siano molto interessanti perché mi insegnano molto e possa lasciarmi qualche bagaglio tecnico per il futuro. Grazie a tutti.